Solo i vaccinati o i recentemente guariti potranno frequentare attività sociali, ricreative e culturali. E il Super Green Pass, tramite il quale vi saranno diverse restrizioni a seconda del fatto se ci si è immunizzati oppure no. Oggi in riunione il Comitato Tecnico Scientifico è a seguire il Consiglio dei Ministri per varare il nuovo decreto che potrebbe entrare in vigore già dalla prossima settimana o al limite dal 6 dicembre. La terza dose sarà anticipata a cinque mesi dalla seconda e Draghi intenderebbe rendere il vaccino obbligatorio per personale sanitario, personale scolastico e forze dell'ordine, mentre i costituzionalisti rimangono scettici su un'imposizione generalizzata. Chi non sarà vaccinato non potrà frequentare bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi e palazzetti sportivi, piscine, palestre, impianti sciistici, discoteche e sale gioco. Insomma, accesso negato ai luoghi della cultura e del divertimento, ma non a quelli della produzione. Per andare al lavoro, infatti, continuerà a essere sufficiente un tampone negativo. L'obiettivo è dichiarato salvare i consumi delle feste natalizie. Rimane da capire se il Super Green Pass scatterà dalla zona gialla o sarà già in vigore anche in zona bianca. Inoltre, i tecnici stanno valutando se accorciare la validità del certificato verde a nove mesi e se imporre nuovamente l'uso della mascherina anche all'aperto. È una misura non efficace, ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Tanto vale applicare l'obbligatorietà del vaccino, sostiene il governatore, che però approva la riduzione dei tempi per ricevere la terza dose. È una questione di numeri. Ormai viaggiamo verso il 90% di persone vaccinate. Se il Super Green Pass serve a tenere a casa le persone che non sono vaccinate, però dandogli comunque la libertà, come è normale che sia, di andare a lavorare, di prendere gli autobus, di andare in fabbrica, di stare nei luoghi dove normalmente si svolge la vita sociale. Quindi gli si dà la punizione di non andare al cinema, al ristorante, allo stadio, come se stessero in continuazione a ballare dentro le discoteche o a fare queste attività, si riduce di pochissimo la circolazione. Per convincere gli indecisi, ha detto Marsilio, meglio introdurre un diritto all'indennizzo in caso di gravi effetti collaterali del vaccino. Aiuta a trasmettere un messaggio rassicurante alla popolazione, almeno a quella parte di popolazione che non si sta vaccinando, non perché sia terrapiattista o irriducibilmente complottista e no-vax dal punto di vista ideologico, ma perché continua a coltivare dubbi, perplessità, che un messaggio chiaro e forte da parte dello Stato potrebbero fugare e quindi portare le persone ad incrementare la campagna vaccinale.